Angelo Malerba è arrivato alle 12 a Palazzo di Giustizia scortato dai carabinieri per l'udienza di convalida del provvedimento dei militari che lo hanno arrestato e posto ai domiciliari per furto aggravato. L'udienza si celebra davanti alla dottoressa Giorgia De Palma, pubblici ministeri dottori Zito e Rinaldi. Il difensore Massimo Martinelli, mentre noi andiamo in onda, sta contestando la legittimità del provvedimento perché dice che non sussistono le aggravanti richieste. L'udienza è in corso, vi riferiremo all'esito nel telegiornale delle 19.